Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Il mio nome è Germana e nella lezione di oggi scopriremo delle eccezioni su alcuni sostantivi in italiano. Siete pronti? Iniziamo! In italiano esistono dei sostantivi che al singolare sono di un genere e al plurale sono di un altro, come per esempio un uovo, due uova. Come potete notare questo sostantivo al singolare è di genere maschile e al plurale diventa femminile. Ma vediamone altri. Dito, dita. Orecchio, orecchie. Sopracciglio, sopracciglia. Miglio, miglia. Labbro, labbra. centinaio, centinaia. Migliaio, migliaia. Braccio, braccia. Riso, risa. Ginocchio, ginocchia. lenzuolo, lenzuola. Ma possiamo però trovare anche il contrario, ovvero un sostantivo che al singolare è femminile e al plurale è maschile, come per esempio l'eco, gli echi. Possiamo trovare una spiegazione a questo fenomeno se risaliamo alla radice latina delle parole che abbiamo visto. Molte di queste infatti appartenevano alla seconda declinazione ed erano di genere neutro. Terminavano per questo al singolare in um e al plurale in a. Bene, per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia stato utile e se avete qualche domanda non esitate a scrivermi nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e vi aspetto nelle mie pagine Facebook, Instagram e Twitter. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!